Abbiamo preso atto come sindaci di questa decisione, assolutamente non condivisa, non concordata, senza un confronto, quantomeno per capire l'impatto che si ha sul territorio. Ho letto l'ordinanza, ho visto anche la nota da parte del gruppo tecnico scientifico. C'è una forte preoccupazione dettata dai numeri che stanno emergendo, ma si evince con chiarezza che la ragione è dettata dal fatto che non si è riusciti a gestire evidentemente le mobilità, soprattutto il problema dei trasporti. Mi sembra che sia questo il motivo per cui si sia arrivati poi a questa decisione. Certo, la condivisione sarebbe stata non solo opportuna ma necessaria, considerando anche il fatto che tutti i sindaci del territorio sono stati chiamati ad uno sforzo enorme per mettere in campo gli screening di massa anche nei confronti della popolazione scolastica con un obiettivo, quello di garantire la continuità sulla provincia di Teramo, come l'ufficio scolastico provinciale ha detto qualche giorno fa, c'è un problema serio a Giulianova e in qualche comune della costa in termini di numeri e di focolai, ma nelle altre realtà la situazione è sotto controllo. Prendiamo atto di questa decisione, come sindaci non possiamo che subirla, perché sappiamo bene che non possiamo adottare misure meno restrittive. Speriamo che sia propedeutica a un miglioramento reale della situazione e soprattutto ad una programmazione che evidentemente non ha funzionato ed è saltata e ha determinato questo stato di cose. Certo, poi una decisione del genere così rigida, ripeto, si è adottata su criteri prudenziali, va bene, stride fortemente con il passo indietro effettuato qualche giorno fa nel sospendere la circolare della giunta regionale che richiamava le misure prudenziali della nostra ASA.